Ecco, questa è Bocca d'Asse, anzi questa è Santa Chiara, vedete? Lì in fondo. Santa Chiara, molto bella. Laggiù Bocca d'Asse. Poi volevo faremo vedere meglio la chiesa di Bocca d'Asse. Ecco qua. Sì, fra due ore. Mentre invece questa è Vernazzola, quarto, quinto e laggiù in fondo Nervi col promontorio di Portofino. Quello al suo è Monte Fasce. Prima c'erano due che facevano pagli in giro. Dopo Bocca d'Asse magari. Vai via, ciao.